No, in realtà ho fatto solo due canestri e non ne ho fatti tanti di più, però uno mi è bastato per vincere. Allora, gli slam drunk in realtà racchiudono molto di me stesso, molto di Alvin perché sono nati in Honduras mentre stavo facendo l'Isola dei Famosi, nel tempo libero, poco peraltro, abbiamo costruito questo canestro e mi sono iniziato a sfogare. La cosa più importante degli slam drunk è che siamo un gruppo di amici, amici d'infanzia legati alla città di Ro e quindi è per questo che è molto importante questa giornata perché abbiamo associato appunto la nostra amicizia, il legame con la città di Ro la passione per lo sport che ci ha aggregato e ci ha guidato sin da quando siamo piccolini ad ora e per di più la passione mia per l'arte perché poi disegno tutto il merchandise, le divise, le magliettine eccetera quindi racchiude veramente molto del mio mondo e io sono molto contento di essere qui.